Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di Shadow of Mordor Il mio nome è come sempre qui Twano8 E quest'oggi andremo a ripulire un po' di queste robine che ci sono qua in giro Voglio riuscire ad ammazzare i capitani Perché penso che potrebbero infastidirmi parecchio Quindi inizieremo da Mog l'accalappiatore Della quale non sappiamo nulla vero? Yup, ma lo troveremo Nessun problema Allora, nel mentre però avremo di sicuro delle armi, delle rune Roba da prendere perché in realtà non ho visto se avevamo delle nuove rune Ah epica Ecco, recupero appena la concentrazione dei protetti di verci Quando un'ultima protetta riesce Uh, 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 uh Ok Facciamo così e mettiamo questa Perché mi interessa l'immortale Poi l'arco Abbiamo questa Fine esplosiva Probabilità di venerci Svegli sinnesso E puoi dare intorno ad un colpo alla testa Da arco caricato su Urk O Ghoul Uh, nice Like it Perfetto E poi Qua Cosa abbiamo Queste Che sono tutte roba schifida Va bene Potenziamenti Abbiamo un punto abilità disponibile Abbiamo detto che volevamo Questa è colpo ombra letale Una versione letale di colpo d'ombra Uh Yes LT più X Mi piace Spallata Perché se no c'è anche questi che erano fighi C'è la storia di colpi di 5-8 per l'esecuzione Questi erano fighi Sì sì Direi che andiamo avanti questo qua per il primo 5 colpi Il posto che 8 Sounds good Ok Quindi Andiamo Dove cazzo è Mogla calapetore Yes Quindi andiamo qua E andiamo a fare Ci facciamo un po' di capitani Tipo catalogo Autunno-inverno Capitani morti Capitani con 2P Perché io non so parlare Il capo ci prende in giro Sono secoli che non ci manda a caccia Hello Ho visto carcasse di Karagor Che lavorerebbero di più di questi umani Ok Gli Uruk potenti Intimidiscono e opprimono gli altri Obbligandone a diventare loro seguaci Se è successo il capitano accrescerà il suo potere Invadi il tentativo di reclutare le seguaci Prendebole l'esercito di Sauron Fantastico Hello Hello Un altro cacciatore Tenite Spaccheremo un po' di teste Abbiamo da fare Disturba qualcun altro LOL Perché c'è la versione di Morpheus Ma Perché è lui È Blorg il mingerlino? Vero Io non so un cazzo di lui quindi No non è la Blorg il mingerlino Ok Vieni qua No non lui Lui No non lui Ma non lui Oh mio Dio Aia Ok Hai stato davvero stupido A tornare da me Ti spaccherò la testa Di nuovo No Mog Tu hai vinto per culo Allora Basta Ciao Mog Minchia me è mancato Odio per la sconfitta Fantastico Facciamolo a pezzi Devo uccidere tutti questi prima però E basta Finalmente Qualcuno da combattere Oh cazzo Eeeh Ah Mog No Cattivo Mog Ti volevo interrogare Ma Mi sembra che Non credo Oh merda Ah Bene Eeeh X Hello E ha tagliato la testa E ha tagliato la testa Colpiamolo dove fa male Oh merda No Cazzo Mi ha ucciso sul serio Ti prego No 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 Merda Sei lento a imparare E' vero Stai divendolo fortissimo comunque Mog Sappilo No non è vero Semplicemente Non volevo che Oh cazzo Adesso si riempirà di capitani Merda Ok Va bene Che palle Minchia quanti cazzo siete Bene Sarà una lunga cosa Quindi Tu sei marchiato E sei lì Andiamo ad ucciderlo Perché mi ha rotto i coglioni Cosa sono queste torri argentate? Sono i fari che ci guidano Nella terra dell'ombra Quando ogni altra luce si spegne Palli di riflessi della luce Dei due alberi E testimonianze di un regno perduto Senti Non darmi del pazzo Ma ho sentito di nuovo Degli strani rumori Bustatelo a terra No Ok iniziamo a uccidere tutti Mi serve Quel tito da interrogare Quindi Ok Ok Vuoi morire? Allo Oh eccoci Ciao Mog Ogni volta che muori Ramingo Oh Spero di sì Aspetta Si buono Merda Rompiballe Mi si è buggato il gioco E sono ancora il tizio fantasma Sei un incapace Non ha funzionato prima E non funzionerà neanche ora Al sudore Yes Lui è morto Vieni qui Finalmente Fermi cazzo Esatto E ora interroghiamo lui Ah 15 informazioni Ah voglio informazioni su questo Brog Mangianani Ci passano con l'armatura Non lo so Sembra più tipo rinoceronte Ok Poi prendiamoci sto arco Che lince Poi Andiamo Energia di Sauron Andiamo ad uccidere Lui Che mi sta sul culo Vabbè che è il tizio di Ratbug Ma il collezione orecchie Mi sta sulle palle Ampiamente Ok Quindi Where are you? Qua Yes Andiamo da Dugza Dugza I'm coming for you Are you ready Dugza? I'm gonna stab you Gli ammazza subito Capitani Come ha fatto Ratbug A sopravvivere? Non lo so Ma qualcosa non va Minchia Io ho fatto tipo Una specie di osso Tipo quello che mettono gli indigeni Però io l'ho fatto con un coltello Attraverso la testa Ok Eh il banchetto Eccetera 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 Uccidiamo Dugza Non ci interessa un cazzo Ce lo siamo meritato Tutti quanti Ma va Tu hai perso ogni volta Ah è vero che Dugza L'olfatto raffinatissimo Ciao Glob Ma non ti ho dato per morto Sapevo che rivivo Ci siamo già rincontrati Concediamo Non muoverti No non ci Non funziona Tutti insieme Non miasso E' stato un piacere Dugza l'è andato Dugza si è accasciato a terra Nella maniera più triste del mondo Yup Anche l'izia che c'è Di merda Oh assata Yeah Yep Lo farò Nulla Wait Dugza ha droppato Eh ciao Blorg Non ti dispiacerà Se ti strappo gli occhi Beh insomma Bene A questo sei vulnerabile No Non così Oh no Stavolta no Ok lui le anda E ora Ti acchiappo E poi ti interrogo Ciao Blorg Ecco 10 informazioni E' Voglio informazioni su di lui Com'è Golm il predatore Vediamo com'è Mal adesso Non è bene le veste cavalcate Ok Tira sul nemico per la gola Blocco sull'imento spettrale Va bene Va bene E' nata Segugio Ah sei trattato di sagga Ok Va bene Ciao Ming Girl It's been nice knowing you Uh rune per la spada Rune per la spada epiche Rune per la spada un po' meno epiche Allora Armi a Rune Andiamo il traditore questa qua Cambiamo con Recupera un proiette F O per un gisone con lampo spettrale Lampo spettrale non lo uso Quindi niente Va bene Dugza sei inutile anche con le epiche Cazzo Allora Poi Prossima Qual è No Scog la montagna E Brog mangianani Ok No c'è qua Al golm il predatore Ma andiamo da Scog la montagna La montagna Quello Andiamo da quei due E mazziamo tutti e due E facciamo prima No anzi però Se andiamo da golm E riusciamo poi A seccarlo E mandare una minaccia di morte Possiamo mandare una minaccia di morte Oh merda Ciao cari Ah Bibi 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 No Oh fuck L'ha messo X Ecco Ovvio Mi ha ucciso Minchia Icaragor Che roba brutta Blorg è morto Va bene Il duello Conto come il predatore Avrà vinto Gom Si Brog mangianani Vincere anche lui Brog mangianani Solo potere 5 Minchia Ho ridotto proprio all'osso Le cazzo di cose Di Sauron Eh Ma lui non l'aveva perso È stato promosso comunque Si abbiamo capito Dai basta Ragazzi Ok Merda Cos'è questa potente stregoneria Che per Ho solo creato più casini Con questa cosa Andiamo da Borog mangianani Perché mi sta sul culo Mette di entrare nelle loro menti È contro natura È il potere di seminare il terrore Tra i servitori del nemico È il potere di dare la caccia ai seguaci Dall'oscuro signore Oh merda Ho sentito qualcosa Perdita di tempo È tutto per un'inutile pelle rosa Hello Ok C'è un grau Ma non ci vediamo dalle palle Spesso si uccide Si vede Una rimboscata Ok Ah almeno non sono cacciatori Fermiamoci Guardie Al lavoro Ok Ciao Brog Brog Colpi di ragazzi furtivi Qua sono ucciso Se col colpo A testa caricato Freccia infocata Allora facciamogli un colpo d'ombra Merda Appendiremo il tuo cadavere a narco Appendimi il culo Ehi tu Sei in combutta con questi verbi No Wow Instant proprio Allo Non riesco a prenderlo di sorpresa Lo so Morto Oh I'm sorry Non tu Tu vieni qua E verrai interrogato E manderemo una minaccia di morte E la minaccia di morte la manderemo a Rathbug Posso? Ok Non so se è stata una grande idea Comunque ragazzi Con questo Terminiamo qua Quest'episodio Se devo continuare Se continuerò a fare tutto questo lavoro qua Con i capitani Etc Etc Dovrò Dovrò mettermi a Prendere un po' di info Perché se no sono cazzi Non sapremo mai niente dei capitani Quindi Il mio nome è come sempre Quinton Wait Io vi ringrazio come sempre Per avermi seguito Ciao a tutti Gioco ai videogames Da quando avevo Due anni Adesso sono il re del Let's play One of Wings Dovrò mettermi a Tornit